Musica Sabato prossimo 25 marzo per le giornate di primavera del FAI l'arcivescovado Domus Ambrosi aprirà le sue porte al pubblico tale è stata la risposta dei cittadini che l'evento purtroppo è già sold out e allora vi proponiamo una visita virtuale a una delle opere più imponenti e poco conosciute della Domus esposta nella cosiddetta Sala del Trono del Palazzo Arcivescovile questo dipinto che da pochissimo tempo è in questo luogo in cure arcivescovile è di Alessandro Varotari detto il padovanino un pittore padovano appunto del 600 è un dipinto che ha una storia strana e abbastanza travagliata realizzato per una chiesa di Venezia Santa Maria Maggiore nel 1618 tutto sommato poco tempo dopo la sua realizzazione a fine Settecento fu indemaniato acquisito dallo Stato e destinato alla Pinacoteca di Brera che a fine Settecento e ancor più ai primi dell'Ottocento si andava qualificando come la grande Pinacoteca nazionale per cui da tutti i territori conquistati da Napoleone e anche Venezia lo era i dipinti ritenuti più importanti venivano mandati a Milano questo dipinto però è 5 metri e 10 per 5 metri e 70 con dimensioni difficilmente compatibili con quelle pur monumentali dei saloni allora a disposizione della Pinacoteca siamo stati fortunati ad avere la disponibilità dell'Arcidiocesi che ci ha dato a disposizione questa sala è una storia molto particolare siamo nel 911 dopo Cristo le truppe di Rollone il Camminatore il Duca di Normandia che stanno conquistando grazie a soldati di ventura scandinavi aveva soldato i celebri ferocissimi vichinghi stanno conquistando lentamente i territori di Francia e assediano Chartres allora nota col nome latino di Carnutum la città stava per soccombere ma dagli spalti e lo vediamo nel dipinto discende l'Arcivescovo Gantelmo sventolando la più importante reliquia che era conservata nella cattedrale reliquia regalata da Carlo Magno al figlio Carlo il Calvo che l'aveva regalata a Chartres il cosiddetto velo della Vergine quella che in realtà secondo la tradizione era la camicia di lino sottilissima che Maria avrebbe indossato nel momento dell'incarnazione quindi una reliquia di straordinaria importanza e di straordinario significato simbolico che in parte è ancora conservata a Chartres in una delle cappelle del tornacoro Padovanino rappresenta esattamente questo momento che è tutt'altro che frequente nell'iconografia il momento in cui l'Arcivescovo sventolando quella che il pittore dipinge veramente come una camicia rosata mette in fuga l'esercito nemico e lo mette in fuga in modo drammatico in questo dipinto così ricco di movimenti Padovanino mette a frutto tutta la sua cultura ancora giovanile quando l'ha dipinto aveva circa 30 anni era tornato da poco da Roma e fonde insieme la tradizione veneta a sinistra vedete un bellissimo cavaliere che regge una gigantesca bandiera che discende diretto da Tiziano come da Tintoretto discendono le sciabolate di luci che accendono le armature e le armi ma davanti vediamo una serie di nudi di cadaveri o di soldati che derivano direttamente dagli affreschi di Annibale Carracci a Roma quindi un'opera di straordinario aggiornamento grazie a tutti